Ha ottenuto un buon risultato l'incontro organizzato dagli avvocati a difesa del foro arianese. Il tribunale di Ariano, considerato un presidio indispensabile per garantire la giustizia al cittadino, potrebbe non essere soppresso o accorpato perché ci sarebbero tutte le condizioni per contrastare il decreto che prevede il ridimensionamento dei presidi di giustizia. Perché i due tribunali, i due fori di giustizia di Sant'Angelo e di Lombardi e Ariano Irpino devono sopravvivere? Devono sopravvivere innanzitutto perché il tribunale di per sé è un vero presidio di legalità. Il tribunale di Ariano Irpino così come quello di Sant'Angelo e di Lombardi hanno fatto sì che nel tempo le mafie, la Camorra, la Sacra Corononite non si sono avvicinate a questi territori proprio perché c'erano questi presidi di legalità. Ci sono questi presidi di legalità. Io aggiungerei anche che il tribunale è una fonte di indotto, non da sottovalutare. Intorno a un tribunale gira il lavoro, girano le pratiche, girano le consulenze e quindi la mia difesa è stata sempre quella di essere contrario a questa riforma che il governo ci propone, di riorganizzare i tribunali, la geografia giudiziaria e quindi di chiudere e accorpare i tribunali delle aree interne. Questo verrebbe privare la nostra provincia di due tribunali e non è possibile. La mia difesa politica è vicina a quella dei sindaci, in questo caso del foro di Ariano Irpino che ha organizzato questa iniziativa di oggi a difesa della continuità del lavoro del tribunale di Ariano. Il punto è abbastanza semplice. C'è una legge delega che consente al governo nel rispetto di determinate condizioni e per il perseguimento di determinati obiettivi, quello della maggiore efficienza e della minor spesa, di intervenire sulla geografia giudiziaria, cioè sul reticolo di tribunali nei quali oggi si amministra la giustizia. Tribunali, giudici di pace, sezioni distaccate di tribunale. Da parte del Ministero è stata avviata un'analisi della situazione che ha portato a costituire una commissione ministeriale, questa commissione ministeriale ha rassegnato alcune conclusioni che contemplerebbero come ipotesi la soppressione di un certo numero di tribunali, 33, di tutte le sezioni distaccate e il mantenimento degli uffici dei giudici di pace soltanto nelle sedi circoscrizionali, cioè laddove oggi ci sono i tribunali e laddove domani ci saranno i tribunali. Noi riteniamo che questa ottica sia censurabile perché è priva di una concreta progettualità, nel senso che non si comprende la ragione per cui si affronti questo tema senza conoscere appieno le caratteristiche del problema stesso e le caratteristiche sono date dalla funzione dei tribunali e cioè dalla possibilità che viene tramite essi offerte ai cittadini per tutelare i propri diritti e la possibilità che viene data al sistema produttivo di essere affiancato nella tutela delle proprie guarantiche. Noi sappiamo che la giustizia ha bisogno di interventi ma riteniamo che non possano essere fatti sulla base di postulati, non è sopprimendo e cancellando ipoteticamente dei costi che si otterrebbero dei miglioramenti della situazione perché ad esempio la semplice soppressione non contempla i costi che la soppressione del tribunale di Ariano o del tribunale di simili dimensioni comunque su provinciale comporterebbe in ragione di una serie di cose. Prima fra tutte quella di approntare nel tribunale accorpante quelle strutture necessarie per ospitare i giudici che oggi non ci sono i tribunali, gli avvocati che oggi non ci sono e i cittadini che oggi si rivolgono al tribunale sopprimendo e dovranno domani rivolgersi all'altra struttura.